Oh, tutti i giorni la stessa storia, sembra che lo faccia apposta, dovrò parlare coi suoi genitori, ammesso che li abbia, ci risiamo, qui c'è sempre traffico, io questo incrocio l'odio, ma no, allora lo fate apposta, grazie signorina, perché lei è la principessa del parcheggio e può parcheggiare ovunque, ma che educazione, oh no, ma è uno scherzo, tutta questa gente, e dai, posso avere un biscotto per mio figlio, ma certo, 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 si accomodi pure, lei è l'unico uomo al mondo, penso a quel biscotto rischia di morire, grazie signore, cosa le preparo? Un decaffeinato, va bene, 4 dollari, ecco a lei, temo dovrà attendere qualche minuto per il suo caffè, grazie per la pazienza, stupendo, c'è ancora da aspettare, che sei? cosa? ma come è possibile? non riesco a vedere la loro condizione interiore, che il suo caffè è signore? no, basta, c'è troppo bisogno, tenta dove metti piedi, oh, oh, si, mi perdoni, i bimbi. Ah basta! No! Dio... Basta! Non sopporto tutto questo bisogno. Ehi amico! Fermati un attimo! Grazie per la visione! Grazie a tutti!